Gli prossimi appuntamenti per giovedì e venerdì. Domani è la giornata dedicata al Cile, perché ne abbiamo tre film, due in concorso ufficiale e uno in contemporanea. Avremo alcune cose prodotte in America, negli Stati Uniti, in produzione curiosamente Porto Rico-Argentina, perché ormai oggi negli Stati Uniti c'è una curiosa apertura, anche collaborazione con l'America Latina, visto che il continente sta producendo in quantità e qualità un numero incredibile di opere e che naturalmente quando gli statunitensi vedono l'affare partono in quinta. Senti, mi hai detto che c'è stato un successo non da poco per il film dedicato al Papa. Oddio, non era dedicato al Papa, è il regista che ha fatto il film su Papa Verdoglio, che quasi un po' prima di questo film aveva fatto un lavoro straordinario sulle identità rubate in Argentina. fatto un mese prima che fosse ritrovato il nipote di Estella Carlotto. Infatti lei parla nel film e parla di suo nipote che non immaginava che da lì a 30 giorni sarebbe stato ritrovato. E' un film che racconta la storia del gruppo degli esperti forensi che si sono formati grazie a due fondazioni americane che gli hanno insegnato tutta la tecnica per poter individuare le persone e loro hanno individuato già qualche migliaio, dando l'identità a coloro che erano stati uccisi, seppeliti, buttati da una parte e dall'altra oppure anche nei cimiteri nella lapide mettendo enene. Tutte le informazioni poi su quello che riguarda le proiezioni anche nei prossimi giorni, se qualcuno vuole vedere la trama, le può trovare ovviamente in internet. Ricordiamo anche il sito appunto del Festival del Cinema Latinoamericano? Sì, ce n'è una marea di informazioni nella pagina www.cinelatinotrieste.org e poi lì stesso c'è il banner lì del Facebook dove il pubblico può votare il premio del pubblico.